Non solo Covid, i numeri della diabetologia pescara al centro di un incontro a cui hanno preso parte il direttore generale dell'ASL Ciamponi, il direttore sanitario Caponetti, il direttore dell'unità operativa complessa di endocrinologia e malattie metaboliche Antonio Consoli, anche il dirigente medico della stessa unità Fabrizio Febo. Come è noto, i pazienti diabetici sono tra quelli più espossi al Covid ed è per questo che in tempo di pandemia è stato ribadito, si è prestata molta attenzione a queste persone fragili. Abbiamo detto prima che la mortalità nelle persone con diabete che contraevano l'infezione del SARS-CoV-2 era sicuramente maggiore rispetto alle persone senza diabete. In parte perché, come abbiamo detto prima, l'iterlicemia stessa è un fattore di aggravamento dell'aggressività della patologia Covid-19, in parte perché la persona con diabete è spesso una persona affetta da comorbidità plurime, quindi il diabete contribuisce per esempio a metterle in carico da 11 come direbbe a Montalbano a una persona che ha già avuto un infarto, che ha una cardiopatia ischemica, che ha uno scompenso cardiaco. Date queste premesse rispetto a un individuo senza patologie che contraeva l'infezione del SARS-CoV-2, il rischio di morte nelle persone con diabete era del 30% più alto. Per la cura delle persone diabetiche c'è poi la cosiddetta nota 100. Di cosa si tratta? Significa che sono stati aboliti i piani terapeutici per i farmaci del diabete e che i medici di famiglia possono in realtà già dal 27 di gennaio prescrivere farmaci innovativi che oltre a far abbassare la glicemia, cosa che devono fare i farmaci per il diabete, hanno dimostrato, secondo anche le nostre recenti linee guida, una protezione cardiovascolare e renale. Quindi i primi pendici di famiglia potrebbero utilizzare solo farmaci vecchi. Oggi abbiamo a disposizione dei farmaci sicuri, efficaci sul diabete ma che danno anche una protezione. Partiremo il 26 febbraio con un bellissimo evento dove verranno raccolti i medici di famiglia ma anche cardiologi e nefrologi. Tornando al covid e al boom di guariti di ieri, il direttore sanitario dell'ASL di Pescara, Antonio Caponetti. Beh, la pressione sperata riguardo i covid è decisamente diminuita. Fermo restando che stiamo sempre intorno ai 200 ricoverati perché poi è vero che calano i positivi ma insomma i malati ci mettono un paio di settimane a guarire obiettivamente. Sta salendo invece la pressione per i malati ordinari che per un certo periodo non avevano frequentato i nostri pronto soccorsi e adesso stanno invece tornando alla grande e quindi abbiamo comunque tanti problemi da risolvere.